in collaborazione con Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Feralpi Salone News non è una buona giornata o meglio The Day After non è certo eccellente per la Feralpi e i suoi sostenitori sconfitta per la squadra allenata da Aimo Diana prima o poi doveva accadere è la prima battuta d'arresto ci può stare brucia perché è arrivata dopo un incontro giocato in casa quindi giocato davanti al proprio pubblico però io credo che non bisogna fare assolutamente come dire un dramma di questa battuta d'arresto la Feralpi ha dimostrato adesso una squadra che se la può giocare con tutti può capitare di battere come è successo un colpo a vuoto ma non solo prima squadra come sapete abbiamo anche i nostri consueti ospiti in rappresentanza del settore giovanile allora andiamo subito a presentarli all'estrema sinistra c'è Andrea Gardoni mister del 2006 della scuola calcio sezione Brescia bentornato bentornato anche a Francesco Bellicini esordienti a nove bentornato anche a te ciao ad entrambi allora andiamo con ordine vediamo insieme i risultati di quest'ultimo turno del campionato di Lega Pro in attesa del posticipo vediamo quali sono i risultati di quest'ultimo turno all'insegna dell'incertezza come peraltro diciamo ormai abitualmente dall'inizio di questa trasmissione pareggio proprio allo scadere per la cremonese che stava perdendo in casa col Gianna Ermini un colpo di tacco al 47esimo della ripresa di Brighenti mi pare regale il pareggio alla cremonese in estremi sperde come abbiamo detto la Ferralpi Salò battuta per 1-0 dal Cuneo sconfitta ancora una sconfitta purtroppo per il Lumezzane di Dastoli battuto in casa per 3-2 dalla Bassano Virtus e ancora andiamo avanti con gli altri risultati il Padova piega senza troppi problemi l'Albino Leffe 3-0 il risultato finale mentre il Pordenone perde in casa con il Cittadella la squadra più forte probabilmente della Lega Pro ancora altri risultati Reggiana Pavia finisce sullo 0-0 la Pro Piacenza conquista punti preziosi in chiave salvezza spese del Renate imponendosi per 2-0 il suo Tirolo di Giovanni Stroppa batte la Pro Patria per 2-1 vediamo insieme la classifica manca naturalmente il risultato di Mantua-Alessandria a posticipo di lunedì al momento in cui stiamo registrando questa trasmissione non abbiamo ancora ovviamente risultato la classifica al momento premia il Cittadella ma bisognerà aspettare con 5 punti di vantaggio sull'Alessandria bisogna aspettare il risultato del posticipo teoricamente l'Alessandria può andare a 2 punti Ferral-Pisalò e Bassano che raggiunge la Ferral-Pisalò sono a quota 24 poi Pavia sui Tirola 23 Cuneo e Cremonese sono a quota 22 la Reggiana è a quota 21 via via tutte le altre in coda sempre ferma a quota 3 punti la Pro Patria 3 punti frutto di altrettanti pareggi il Renate è penultimo con 9 punti poi Albino la F11 a 13 punti troviamo Lumezzani e Mantua con i Virgiliani che però debbono recuperare una partita quella appunto con l'Alessandria allora con i nostri ospiti proviamo ad analizzare questo campionato rischiamo di ripeterci allo sfinimento è un campionato difficile incerto in questo momento io direi diviso però ormai abbastanza nettamente in due grupponi il gruppone all'interno del quale si lotta per un posto al sole cioè per la promozione il gruppone di coloro che cercano evidentemente di evitare la retrocessione Cittadella super favorito resta la squadra da battere? Sicuramente sembra che il Cittadella sia la squadra da battere se non erro poi settimana prossima c'è proprio lo scontro con la Ferralpi Salò è vero il campionato è diviso in due grandi gruppi il problema però che ad esempio anche la Ferralpi Salò che in teoria è nel gruppo di quelle che cercano un posto al sole ha perso punti ad esempio con il Reinate in casa che è dall'altra parte del gruppo quindi comunque è sempre un campionato questa testimonianza dell'equilibrio esatto è un campionato che rimane molto avvincente anche secondo te Cittadella la squadra da battere comunque assolutamente sperando che possa perdere punti già a partire dalla prossima settimana sicuramente però nel gruppone noi possiamo dire la nostra siamo lì tanto bisogna sognare quindi sogniamo l'ho detto anche ai vostri colleghi che in questo periodo sono venuti a trovarmi la promozione sul campo di Aimo Diana credo possa essere di grandissimo stimolo per chi come voi si occupa di settore giovanile vuol dire che all'interno della Ferralpi Salò c'è anche una grande attenzione nei confronti degli istruttori degli allenatori che operano nel settore giovanile se alla fine nel momento in cui si decide di esonerare Serena viene scelto al suo interno il successore quindi anche per voi credo sia un ulteriore stimolo è così? sono d'accordo la Ferralpi ha sempre dimostrato grande attenzione per il settore giovanile soprattutto negli ultimi anni e il fatto che scelga degli istruttori da partire dalle categorie più piccole fino ad arrivare appunto alla Beretti reputandoli qualificati all'altezza anche di guidare una prima squadra vuol dire che vuole fare il meglio dalla A alla Z è così insomma siamo tutti d'accordo sì sì assolutamente penso che sia una diciamo il sogno di tutti è quello di partire appunto dai piccoli per poi riuscire a fare diciamo la scalata fino ad arrivare alla prima squadra penso che penso che poi comunque il mister abbia in questo caso Diana abbia comunque avuto tutti i meriti che sta comunque raccogliendo in queste ultime giornate diciamo che fino a questo momento ha fatto molto bene al di là appunto di questa sconfitta col Cuneo che pure è una buona squadra è una squadra che era partita molto male ma che poi si era ripresa vediamo insieme che cosa è successo la sintesi del match vediamolo A Imodiana sapora il primo amaro gusto della sconfitta dopo quattro vittorie consecutive la Feralpi se lo cede in casa contro il Cuneo e una rete di corrade alla mezz'ora della ripresa ad interrompere la striscia positiva dei risultati della squadra gardesana un passo falso che brucia alla luce comunque di una prestazione lodevole con qualche errore di troppo specie sottoporta un capo che nulla toglie la classifica ottimale della squadra dei Leoni del Garda con 24 punti già conquistati e all'orizzonte lo scontro al vertice contro la capolista Cittadella di settimana prossima Feralpi sarà a smarrire tuttavia nuovamente la strada di casa con il lino Torina per l'ennesima volta terreno di conquista per altri quella contro il Cuneo è stata la quarta sconfitta tra le mura amiche della compagine del patron Giuseppe Pasini tre sotto la gestione serena e una con quella di Diana a scardinare il fortino verde blu era un gol di Corradia al 29esimo della ripresa una marcatura nata da una rimessa laterale trasformata in oro dall'ex centrocampista dell'Albino Leffe in quello che rimane uno dei pochissimi tir in porta del Cuneo nei 90 minuti di gioco per la Feralpi sarà tanto gioco e poche occasioni limpide da rete al contrario delle ultime uscite Romero e gli avanti di Diana hanno fatto fatica a trovare lo spiraglio giusto e il guizzo per sbloccare la sfida nemmeno nel finale la mossa della disperazione di Aimodiana a mandare in campo il giovanissimo diciottenne Boccai riusciva a mutare il corso della partita Feralpi sarà sconfitta TKO nuovamente in casa ora la super sfida alla capolista Cittadella per ripartire e riaprire il campionato Allora lo diceva già Fabio Petteno la super sfida col Cittadella per ripartire e riaprire il campionato perché è la verità praticamente almeno 6-7 squadre io credo faranno il tifo per la Feralpi-Salò nel prossimo turno di campionato c'è questa occasione davvero ghiottissima quella cioè di provare a fermare la capolista squadra il Cittadella retrocesso allo scorso anno dalla Serie B che ha però saputo adattarsi io credo alla categoria perché poi quando si retrocede c'è il rischio di incappare in una sorta di peccato di presunzione non sembra quello accaduto al Cittadella Venturato è un allenatore che conosce molto bene la categoria stanno facendo molto bene insomma è una bella partita una bella sfida porterai i tuoi bambini a vederla perché no? Perché no sicuramente è una partita che è importante come dicevi giustamente 6-7 squadre faranno il tifo per noi per poter riaprire diciamo così anche se comunque è ancora lunghissima però per poter diciamo accorciare diciamo la distanza dalla capolista quindi insomma tutto può succedere tutto può succedere allora facciamo una breve pausa andiamo in pubblicità poi rientriamo in studio si esaurisce qui la nostra prima parte di trasmissione quella cioè che dedichiamo alla prima squadra al cammino della Feralpi Sarò io ripeto una battuta dal resto ci può stare soprattutto visto e considerato qual è stato fino adesso il cammino della Feralpi la Feralpi ha confermato di essere una squadra tosta quadrata poi può succedere di incappare in una giornata negativa può accadere che le cose non girino per il verso giusto l'importante è non drammatizzare l'importante è guardare alle prossime partite alle prossime sfide a cominciare da quella con il Cittadella con il giusto ottimismo la giusta concentrazione Aimodiana è un allenatore sì giovane ma capace ha un'esperienza io credo importante perché ha giocato anche ad altissimi livelli quindi insomma io credo che i presupposti per riprendere immediatamente una marcia che fino a questo momento al di là di qualche appannamento è stata una marcia importante io credo ci siano tutti è ovvio l'avversario è intrigante forte è una squadra importante però a volte come dire è più facile tenere alta la concentrazione quando si gioca con squadre di questo genere che quando si gioca con chi occupa magari posizioni di classifica di retroguardia adesso però facciamo quella già annunciata pausa ci ritroviamo tra poco di nuovo insieme con Andrea Gardoni e Francesco Bellicini due dei tanti allenatori istruttori forse la parola che a me piace di più proprio istruttori che seguono il settore giovanile della Feralpis all'oltre tutto loro hanno a che fare con bambini ragazzini diciamo giovanissimi tu hai a che fare mi pare con i 2006 quindi fatevi un po' i conti bimbi di 10 anni l'anno prossimo lui invece è un po' più fortunato ai 2005 ma come ci si come ci si rapporta con ragazzi o bambini di questa età si è più un fratello maggiore il papà un compagno di giochi il maestro non lo so qual è l'atteggiamento che hanno questi ragazzini nei vostri confronti il nostro atteggiamento deve essere appunto un mix di tutto questo di tutti questi di tutti questi ruoli che tu hai detto bisogna essere in certi momenti bisogna essere diciamo più papà quindi essere un pochino magari anche più severi però ci sono i momenti in cui bisogna essere anche fratelli o anche compagni diciamo di avventura perché la nostra è un'avventura che è iniziata a settembre e si concluderà si concluderà comunque a giugno con la fine dell'anno calcistico e quindi per poter farla vivere anche ai nostri bambini come un'avventura dobbiamo essere molto bravi a rapportarci con loro uno dei problemi che ci possono essere quando si ha a che fare con bambini ragazzini di questa età è anche una certa volubilità nel senso che possono cambiare idea quando si è molto piccoli si è soggetti anche a sollecitazioni quindi si è facilmente influenzabili da una parte dall'altra si cambia anche con grande rapidità le proprie scelte per cui vi capita di non dico dover convincere un bambino a continuare a giocare a pallone oppure in questo caso qual è l'atteggiamento un bambino viene da te e dice io preferisco giocare a basket che fate? fortunatamente per ora non mi è mai successo io penso che se un bambino si trova bene in un ambiente difficilmente vuole abbandonare l'ambiente così di punto in bianco secondo me la figura dell'istruttore la figura dei responsabili la figura di una società solida come può essere la Ferral Pissolo aiuta molto sia le famiglie che i bambini noi diamo il tempo al bambino di crescere di sbagliare di divertirsi di magari in quell'occasione non dare il 100% perché appunto la fascia di età è molto bassa quindi non c'è alcun tipo di fretta il loro percorso formativo che noi stiamo contribuendo a creare a sviluppare deve terminare con la prima squadra quindi essendo dei 2005 e del 2006 ne ando di tempo certo l'aspetto ludico è preponderante rispetto al risultato lo diciamo spesso quando abbiamo a che fare col settore giovanile per cui insomma devono innanzitutto imparare a giocare a divertirsi è così? assolutamente il primo obiettivo è divertirsi migliorare e divertirsi perché comunque un bambino che nel gioco comunque esprime tutto quello che ha quindi ci mette il massimo dell'impegno nel gioco quindi mentre gioca lo prende molto sul serio il gioco per il bambino è una cosa veramente seria e quindi dobbiamo anche noi fargli e comunque dalla nostra parte dobbiamo far capire al bambino che il miglioramento viene appunto col gioco e con l'impegno quindi tutte queste componenti sono fondamentali senza dimenticare la scuola perché quella resta comunque un caposaldo nel senso che se i bambini i ragazzini non vanno bene a scuola c'è immediatamente un intervento non punitivo perché credo che non sia la parola più esatta diciamo un intervento educativo perché ci sono delle priorità il ragazzino il bambino deve capire quali sono le priorità è così assolutamente infatti noi appunto tra poco ci saranno le prime pagelle semestrali e quindi noi abbiamo chiesto a tutti i genitori di avere una coppia della pagella giusto per far capire per quello giusto per far capire comunque anche alle famiglie che anche per noi è importante che loro seguono un percorso scolastico di un certo tipo la famiglia deve avere la percezione che dietro all'allenatore dietro a una persona c'è un gruppo di lavoro che è quello che cercate di far capire agli amici che hanno voluto unire il proprio nome a quello della Feralpi Salò dietro alla Feralpi Salò c'è un settore giovanile ma c'è soprattutto un progetto c'è un gruppo di lavoro che comprende nutrizionisti fisioterapisti medici cioè nessun aspetto viene trascurato è importante che questo messaggio passi soprattutto è importante che arrivi alla famiglia è così è così c'è un'equipe ben strutturata e ben definita poi noi purtroppo o per fortuna per ora non dobbiamo ancora rapportarci col medico piuttosto che col fisioterapista perché ovviamente essendo bambini non abbiamo di queste necessità però il fatto che le famiglie sappiano che ci siano queste figure di riferimento penso che le posso lasciare molto più tranquille e facciano capire il valore di questa società voi dovete confrontarvi anche con una classifica che non è una classifica con incontri che non sono incontri nel senso che mi pare che per scelta la federazione abbia deciso che non ci sono classifiche anche se poi in realtà il bambino non gioca mai per perdere nessuno gioca per perdere è così sì sì è così allora anche quando i bambini vanno a scuola che nella ricreazione giocano a nascondino presumo che nessun bambino giocano non farsi trovare non farsi scoprire ovvio quindi durante le partite il bambino entra in campo con la mentalità di voler vincere la partita avete tre tempi io ho tre tempi da 20 minuti lui tre tempi da 15 infatti la federazione suddivide questi tempi in micropartite c'è un risultato a tempo quindi è comunque una cosa molto ludica ma ciò nonostante è importante che ogni bambino abbia come mentalità quella di voler dare il meglio di sé se poi tramite un gioco che secondo noi è la base di tutto tramite un gioco tramite una mentalità tramite dei comportamenti corretti si raggiunge anche la vittoria tanto meglio se non si raggiunge abbiamo dato il massimo per quella partita il problema è dare il massimo poi perdiamo quello fa parte del gioco la sconfitta e la vittoria sono le facce di una stessa medaglia fondamentalmente quindi quando si gioca quando si entra in competizione con qualcuno bisogna mettere in conto che puoi anche perdere ma gli spiegate come bisogna gestire la sconfitta sono arrabbiati quando perdono dispiaciuti assolutamente nel senso che loro per loro come dicevo prima il gioco è una cosa seria il gioco però voglio vincere è giusto che loro lo vedano come un gioco lo vedano come prima di tutto un divertimento però sicuramente se si perde nessuno è mai contento se però noi dobbiamo essere bravi noi allenatori noi istruttori dobbiamo essere bravi a gestirla questa sconfitta dobbiamo essere bravi a leggerla cioè nel senso che come diceva Francesco se alla base c'è il massimo impegno c'è un miglioramento vistoso da parte dei nostri ragazzi la sconfitta è solo un numero quindi per noi non ha nessun valore il valore vero è il come si perde o il come si vince ecco questo è il vero valore che diamo noi eventualmente o alla vittoria o alla sconfitta ma come si fa a tenersi aggiornati facendo il vostro il vostro mestiere cioè come fate anche nel vostro settore evidentemente ci sarà un'evoluzione di metodologie piuttosto che di modi di approccio nei confronti del bambino da questo punto di vista che cosa fate per tenervi aggiornati assolutamente allora innanzitutto il confronto è la cosa che fa crescere più in assoluto quindi noi insieme anche agli altri mister diciamo delle nostre annate Marco Franchi e Fasani Marco insieme con il nostro responsabile Paolo Migliorati e con il nostro referente tecnico che è Pellegrini Francesco c'è sempre un confronto comunque settimanale su cosa si poteva fare meglio su cosa si andrà a lavorare e poi ci sono comunque si vanno diciamo a frequentare dei corsi diciamo da magari comunque correlatori molto preparati per comunque prendere spunto si prende cioè si continua a studiare insomma si può prendere spunto da qualsiasi persona quindi il confronto secondo me è una delle cose una delle chiavi ecco per rimanere sempre aggiornati ma l'ambizione invece qual è nel momento in cui si fa una scelta come quella che avete fatto entrambi cioè quella di seguire dei bambini o dei ragazzini piuttosto giovani l'ambizione qual è quella di specializzarsi in questo oppure come dire lo vedi come un percorso di crescita e allora comincio dai più piccoli per poi via via aumentare non lo so dipende un po' dalle persone per quanto mi riguarda al momento penso che questa fascia di età sia perfetta per me nel senso mi piace mi piace mi trovo molto bene penso di riuscire a far bene penso di riuscire a interagire molto bene con la fascia di età in questione la cosa più importante secondo me è quella di trovare magari il proprio lavoro e il proprio lavoro deve essere qualcosa che ti riempie dentro io lavorare con i bambini finisco l'allenamento che se non posso essere stanco ma sono felice come una pasta e quindi per ora io penso che questo sia il mio non è un punto d'arrivo però è la mia categoria è il mio tuo abitato è il mio abitato esatto vale anche per te questo discorso assolutamente lavorare lavorare con i bambini come diceva Francesco è molto stimolante e quindi le categorie comunque questa fascia di età che può essere pulcini esordienti giovanissimi sono delle categorie su cui veramente ci si può c'è tantissimo lavoro da fare e quando si finisce l'allenamento come diceva Francesco spesso ci si ritrova all'interno dello spogliatoio e si è proprio contenti di aver fatto le due ore di allenamento quotidiane in bocca al lupo in bocca al lupo e grazie per esserci venuti a trovare in bocca al lupo a Francesco Bellicini che è l'allenatore degli esordienti A9 del 2005 e a Andrea Gardoni che è il mister dei 2006 scuola calcio sezione Brescia grazie ad entrambi in bocca al lupo alla Feralpi per questo big match con la Cittadella e a voi tutti di nuovo grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi grazie in collaborazione con Grazie a tutti